Il mercato oggi ad un partner importante come Philips chiede soluzioni chiave in mano a 360 gradi che sia un progetto signage, che sia un video wall per una control room, che sia un mega led wall per un big mall un very large format display per una corporate o un touch per il mondo educational ci chiede sempre quello, una soluzione completa chiave in mano ed è per questo che abbiamo una serie di partner certificati, decine di partner certificati anche in Italia qui a DISE ne sono presenti una dozzina che si differenziano per la loro connotazione internazionale inoltre un'altra parte importante che sia i nostri partner che il cliente finale ci chiede è quella di non abbandonarli una volta che la vendita è stata effettuata uno dei punti che ci caratterizza come un player di riferimento è il servizio post vendita Ma veniamo a DISE, che cosa stiamo presentando? Nel mercato hospitality presentiamo il nuovo range di tv media suite non un'evoluzione ma una rivoluzione, una tv con chromecast a bordo di cui fra poco Daniele vi darà due dettagli in più inoltre presentiamo tutta la gamma dei led wall rinnovata con facilità di installazione e manutenzione mai viste prima Ma adesso lascio la parola a Daniele che vi dà due dettagli in più su queste due novità importantissime Come introdotto da Simone noi presentiamo la nuova gamma dei media suite non soltanto è una rivoluzione ma raddoppia raddoppia perché abbiamo due famiglie 5014 con risoluzione full hd e 6014 con risoluzione in 4k abbiamo un nuovo processore molto più potente, la nuova versione di android che adesso è predominante all'interno della nuova interfaccia utente un televisore che raccoglie tutte le nuove tecnologie e permette un utilizzo del televisore in ambito professionale come quello in ambito domestico e permette all'utente che prende possesso della camera di utilizzare il proprio device e visionare i propri contenuti presentiamo inoltre la nuova gamma di led, nuovi cabinet nel senso che abbiamo deciso di uniformare la nostra linea con cabinet da 27 pollici per i passi 1,2, 1,5 e 1,9 mm in cui i cabinet sono da 27 pollici in 16 noni orientamento landscape per un montaggio che diventa similare a quello di un video wall per cui installazione molto facile, semplificata e con una buonissima resa abbiamo anche i nuovi formati da 44 pollici ma in montaggio portrait in questo caso con passi da 2,9, 3,8 e 4,8 mm Novastar diventa il nostro partner per la distribuzione dei contenuti e per la gestione di questi video wall